Partito Democratico, ieri l'Assemblea Nazionale ha incoronato ufficialmente il neosegretario Matteo Renzi, il deputato di Frigento e la consigliera regionale eletti in direzione. Città, il sindaco Paolo Foti pronto a sciogliere le riserve sui nomi dei nuovi assessori al posto dei dimissionari Ricci e Manzo. In polli il tecnico Marchi D'Ello e consiglieri d'avanzo Genovese e Nadia Race. Avellino, coro unanime dei commercianti al centro storico e a corso Vittorio Emanuele e crisi delle vendite. Si va verso i saldi anticipati. Sport, basket, la Citigas affonda in laguna, le Final 8 sono sempre più lontane. Calcio, dopo il buon pari di Trapani, i lupi pronti a stupire anche allo Juventus Stadium. Buonasera, edizione pomeridiana del nostro telegiornale di Mediatri. Buongiorno. Apertura dedicata alla politica. Si è tenuta ieri l'Assemblea Nazionale del Partito Democratico. Matteo Renzi è stato incoronato ufficialmente leader dei Democratici ed ha nominato la direzione nazionale del partito. Tra i 120 nomi ci sono anche quelli irpini di Famiglietti e di Rosetta D'Amelio. Vediamo il servizio in apertura. Resta ribelle, dice Matteo Renzi, rivolgendosi al suo PD nel giorno dell'incoronazione al leader dei Democratici. Le note dei Negrita fanno da sottofondo all'inizio di questa nuova avventura che, con buona probabilità a meno di un nuovo disastro elettorale, dovrebbe portare il sindaco di Firenze su scranni ben più alti di quelli del partito. L'arma è a doppio taglio, gli suggeriscono i Negrita dagli altoparlanti. Ti potrai ferire un po'. Non avrai un appiglio, ma sei sveglio. Tocca a te. È ben sveglio Matteo Renzi, forse del suo 70%, e nell'attesa organizza la compagine e guarda negli occhi quei da Lema, Veltroni, Bersani e Letta che ha davanti. Un inferno di ombre piatte, continua a cantare Pau. Il primo step arriva in serata con la nomina della direzione nazionale. Tra i 120 componenti figurano anche due irpini, Rosetta D'Amelio e Luigi Famiglietti. Sono molto soddisfatta per la riconferma all'interno della direzione nazionale del Partito Democratico, ha commentato la consigliera regionale. È un onore farne parte, poiché oltre ad essere un ruolo di grande responsabilità, rappresenta l'ennesima prova di comprovata fiducia nei miei confronti da parte della classe dirigente del partito. Ringrazio tutti coloro che mi hanno sostenuto in questi ultimi mesi e ringrazio Cuperlo per la nomina. Ed ha concluso, l'obiettivo è mantenere sempre alta l'attenzione sulle questioni dell'Alterpinia e di tutti i territori interni nell'ambito nazionale del Partito Democratico. Renzi snocciola i temi maggiori dell'agenda politica nazionale, dalla legge elettorale al cosiddetto patto alla tedesca, ruolo di Grillo e a quello di Letta, L'appoggio al governo è la visione banca e politica, un meteo in polte di argomenti per un futuro che è alle porte. Tutto è in movimento, cantano i negrita, tra pausa e mutamento, crisi e rivoluzione. L'assemblea finisce e per Renzi comincia ufficialmente l'avventura. Per lui un biglietto per le stelle, canterebbero i negrita, ma pur sempre in questo vecchio Luna Park. Andiamo nel capoluogo. Il sindaco Paolo Foti è pronto a sostituire gli assessori dimissionari Ricci e Manzo. Questa sera comunicherà i nuovi nomi nel corso del confronto del PD fissato a Via Tagliamento. Si parla di un tecnico e di un consigliere comunale. I dettagli nel servizio di Flavio Coppola. Due assessori sotto l'albero di Natale. Stasera Paolo Foti scioglierà gli ultimi dubbi. Nel corso dell'incontro del PD già programmato a Via Tagliamento, il sindaco di Avellino svelerà ufficialmente i nomi dei due esponenti della sua giunta. I prossimi delegati al patrimonio e al personale sostituiranno i tecnici dimissionari Paolo Ricci e Anna Maria Manzo, che più o meno un mese fa avevano lasciato l'amministrazione di piazza del popolo tra le polemiche, non condividendone la strategia per ripienare i debiti senza ricorrere al predissesto. Rumors insistenti che però da palazzo di città continuano a smentire parlano di un tecnico e di un consigliere comunale. Più precisamente l'assessore esterno sarebbe Annarita Marchitiello, avvocato e docente di diritto del lavoro che dovrebbe occuparsi del personale. Per l'altra poltrona invece il Totonomi sarebbe più vasto. Per le restanti deleghe, tra cui quella strategica e i fonti europei, si pensa ad un consigliere comunale esperto e sono già stati fatti i nomi di Guido Davanzo e Antonio Genovese, anche se crescono le quotazioni della giovane Nadia Arace. Quel che è certo in attesa di riscontri ufficiali è che il sindaco si appresta a chiudere definitivamente una pagina che sembra essere durata fin troppo e che non ha entusiasmato nessuno. All'aggiunta di Paolo Foti la città chiede di cambiare passo, trasformando infatti gli annunci e le troppe dichiarazioni di buone intenzioni. Dal piano strategico al piano sociale di zona, dagli orizzonti ambiziosi dell'area vasta fino all'ordinaria amministrazione, tutto resta sospeso. E con la nomina dei due nuovi assessori, trovati quasi sotto l'albero, la città si augura che possa finalmente aprirsi una fase nuova, di maggiore concretezza e pragmaticità. Dalla città adesso qui non c'è aria di festa, siamo completamente al buio e il comune ci ha abbandonati. Dopo la protesta dei lumini mortuari, sempre più scoraggiati i commercianti del centro storico avellinese. Vediamo Francesca Desloges. Un Natale al buio per i negozianti di Via Nappi del centro storico avellinese. Dopo la polemica culminata con l'accensione dei lumini mortuari lungo il marciapiedi, i commercianti sono sempre più scoraggiati per la mancanza di attenzione mostrata dall'amministrazione cittadina nell'addobbare la storica strada del commercio avellinese con le tradizionali luminarie natalizie. In molti, infatti, lamentano una scarsa affluenza all'interno dei propri esercizi commerciali e le enormi difficoltà economiche dovute alla crisi generale che comprometterebbe addirittura il prosieguo dell'attività il prossimo anno. Ecco cosa ne pensano gli esercenti. Abbiamo cercato di farci sentire un po' dal comune, un po' dall'amministrazione. Diciamo che oggi non è cambiando niente perché giustamente loro avevano programmato delle cose, hanno fatto, hanno detto, però noi non vediamo quasi niente di nuovo. Non c'è area di Natale, ancora non si fanno regali? L'area di Natale è un po' la crisi che abbiamo tutti. Noi commercianti, un po' tutti i clienti, un po' le cose, quindi c'è questo fermo generale. Le vendite nel visto del Natale ad oggi sono praticamente scarsissime, sono zero si può dire. Le persone sono un po' timorose, quindi quando si tratta di dover comprare, venire in possesso di qualcosa che desidera, che è bello, piacevole, però non è essenziale, chiaramente ci sta un certo raffreddamento ed è comprensibile. Non posso con la mia capacità sola, senza avere un canale di distribuzione, un aiuto dal comune. Cioè la strada nostra è completamente buia. Come si è preparata la città tra luci e bancarelle? Sicuramente con sobrietà, in tono minore, ma questo lo accettiamo anche. Noi siamo pronti al sacrificio, credo, tutti. Mi dispiace per la polemica che c'è stata delle illuminazioni. Hanno tutta la mia solidarietà gli altri commercianti, anche quelli che non sono del corso, perché non esistono commercianti minori. E questi erano gli esercenti di Corso Vittorio Emanuele. La situazione non migliora spostandosi in altre zone della città, come vi anticipavamo prima. La protesta più forte è arrivata proprio dal centro storico. Vediamo il servizio. Il Natale è spento a farsi sentire in città. Nel capoluogo avellinese i commercianti divisi in vista delle festività natalizie. Da una parte c'è chi tutto sommato è soddisfatto delle prime vendite, dall'altra chi invece si lamenta per la poca incisività delle luminarie e degli addobbi, che non invoglierebbero i cittadini a venire in città dai paesi dell'Interland e anche da fuori provincia. Si corre quindi ai ripari con vendite promozionali anticipate, con la speranza che nei prossimi giorni la situazione possa migliorare, in vista dei saldi ufficiali che inizieranno il prossimo 2 gennaio. Ascoltiamo i commercianti di Corso Vittorio Emanuele. C'è area di Natale quest'anno? Non lo so, penso che è un po' leggera. Speriamo che si riprenda nei prossimi giorni. A fine adesso c'è stato qualcosa. Però dobbiamo vedere adesso, la settimana prossima, questa qua come va. Certamente non è che aiuta queste luminarie che sono molto tenue, e quindi non invogliano le persone a scendere, specialmente quelle della provincia, quindi si spostano su altre città. Diciamo che qualcosa si sta muovendo, anche se l'azienda ha deciso comunque di lanciare delle promozioni in anticipo sul Natale. Non sono saldi, sono vere e proprie promozioni su più regali, ci sono degli sconti, se una persona magari acquista più cose ha comunque delle agevolazioni, perché altrimenti è difficile spingere, si sente la differenza rispetto agli altri anni. Bisogna, secondo me, comprare sempre la qualità, è importante, più che pensare al regalino. Invogliare, i clienti si fanno invogliare dagli sconti, ma noi siamo dei commercianti, usiamo un'attività che gli sconti facciamo solamente quanto è un periodo di sconti. Non è più quella di una volta, se ci si ammazza, tra virgolette, si lavora tanto di più per ottenere tanto di meno, che per un imprenditore non è proprio il meglio. Però andiamo avanti, sempre con il sorriso, con l'ottimismo e con la speranza che il futuro sia un futuro migliore per i nostri figli, per tutti. E cambiamo argomento dal Nord Africa ad Avellino per apprendere pratiche di buona sanità. Una delegazione del Sudan sarà domani ad Avellino per visitare l'azienda ospedaliera Moscati. Il ministro della Sanità sudanese, Kamal Gadir, accompagnato da tecnici e funzionari governativi, alle 10 arriverà alla città ospedaliera per visionare la struttura e in particolare le dotazioni tecnologiche più all'avanguardia. Gli ospiti stranieri hanno esplicitamente chiesto di visitare il complesso di Contrada Amoretta per conoscere l'organizzazione e la gestione sanitaria dell'azienda avellinese con l'intento di applicare un sistema simile anche nel loro paese. La delegazione sudanese sarà accompagnata in un percorso volto a illustrare le eccellenze strutturali e tecnologiche dell'azienda, dalla PETAC di ultima generazione alle sale operatorie, all'ettrostimolazione, all'area didattica. Restiamo ad Avellino. La riqualificazione di Piazza Libertà è a rischio. La regione a lanciare l'ultimatum, l'amministrazione Foti, ha dunque poco meno di 15 giorni per presentare un progetto credibile e definitivo. Pena il definanziamento. Ascoltiamo. Il progetto integrato urbano Europa legato alla riqualificazione di Piazza Libertà è corposo e consistente, ma la città rischia di perderlo. L'amministrazione Foti ha l'ultima chiamata. Pena il definanziamento del progetto. Proprio ieri una delegazione avellinese è arrivata a Palazzo Santa Lucia per rispondere alla convocazione del responsabile regionale dell'obiettivo 6.1 e delucidare sullo stato dei finanziamenti destinati alle città con più di 50.000 abitanti. La regione ha chiesto al Comune di fare chiarezza sulla programmazione degli interventi da realizzare e con particolare urgenza arrivare ad una decisione precisa sul futuro di Piazza Libertà entro fine dicembre. Sarà dunque l'amministrazione comunale a dover accelerare le decisioni in un clima non esattamente disteso. I cantieri più importanti della città, dal mercatone al parcheggio interrato, restano fermi e con buona probabilità, a meno di una riformulazione di un cronoprogramma in meno di due settimane, non si arriverà a nessuna risoluzione positiva. L'incontro napoletano di ieri è servito anche per fare il punto della situazione sulle altre opere comunali, dalla messa in sicurezza alle periferie di Quattrograna fino alla riqualificazione di Largo Scocca per le quali Avellino sembra essere in regola. La cronaca adesso. Caposele è sotto shock per la morte improvvisa di Michele Porreca. L'uomo, 52 anni, stava giocando a calcio con gli amici quando si è accasciato a terra vittima di un infarto fulminante. Inutili soccorsi giunti sul posto, non c'è stato nulla da fare, nemmeno il tempo di accorgersi del malore, nemmeno il tempo di avvisare gli amici. Michele è morto sul colpo, sul campietto dove spesso si divertiva con gli amici. Tra loro ieri c'era anche il primo cittadino di Caposele, Pasquale Farina, che visibilmente commosso lo ricorda come un instancabile lavoratore ed un padre e marito amorevole. Michele aveva già avuto problemi cardiaci, nulla però che potesse far presagire una fine così improvvisa, ma abbastanza evidenti da costringerlo a visite programmate. L'ultima avrebbe dovuto farla proprio all'inizio di questa settimana. È attualmente ricoverato in prognosi riservata all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino un 52enne di Torre del Greco. L'uomo ieri pomeriggio è caduto dalla sua moto mentre percorreva il circuito di via Acqualongo a Monteforti Irpino. Giuseppe Dell'Oio, questo il nome del 52enne, è attualmente ricoverato nel nosocomio di Contrada Moretta. I carabinieri si sono portati tempestivamente sul posto e stanno eseguendo delle indagini per ricostruire l'accaduto. Restiamo ancora a Monteforte. Colpi di pistola sparati contro una vetrata di un negozio di materiale elettrico. È accaduto a Monteforte nella tarda serata di ieri. I carabinieri della compagnia di Baiano stanno indagando sul caso. Non si esclude nessuna ipotesi e la pista più accreditata rimane quella del racket. Continuiamo con la cronaca. Nella giornata di ieri il personale della squadra mobile di Avellino ha tratto in arresto in flagranza di reato QF. Queste le iniziali di un 28enne di Monteforte Irpino, già noto alle forze di polizia, scusate perché è responsabile del reato di violazione dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza a cui risulta sottoposto. L'uomo veniva sorpreso dai poliziotti nel mandamento Vallo di Lauro Baianese all'uscita del casello autostradale di Baiano a bordo di un'autovettura condotta da una coetanea. Dall'attività condotta emergeva che i due erano in possesso di 5 stecche di sostanza stupefacente tipo hashish già confezionate mentre il giovane risultava sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza da luglio scorso. Il giovane è stato trattenuto nelle camere di sicurezza di via Palatucci in attesa del processo per direttissima che si doveva tenere questa mattina presso il locale tribunale. Il comando provinciale di Avellino ha predisposto un servizio straordinario per il controllo del territorio nella compagnia di Montella. Numerose le perquisizioni di controlli con il risultato di 13 persone denunciate in stato di libertà e il sequestro di tre fucili e sette pregiudicati allontanati con foglio di via obbligatorio. Tra le persone denunciate perché risultate positive con tasso alcolemico oltre la soglia prevista per loro il ritiro della patente di guida è la successiva sospensione sempre nel corso dei posti di controllo. Ben tre persone sono state denunciate perché circolavano con la polizza assicurativa delle proprie autovetture, falsa o contraffatta. Chiudiamo con la cronaca con l'incidente spettacolare a Montemiletto all'uscita della galleria dell'autostrada Napoli-Bari. Una lancia Y con molta probabilità a causa dell'asfalto reso viscito dall'umidità ha perso l'aderenza con l'asfalto facendo un volo oltre il guardrail e finendo poi la corsa nella scarpata. Tanto spavento per i due che erano a bordo della vettura che hanno riportato per fortuna solo qualche lieve contusione. Sono stati altri automobilisti in transito lungo la Napoli-Bari al chilometro 62 ad allertare i soccorsi e la polstrada. Dopo qualche minuto sono arrivate le ambulanze del 118 con gli agenti della sottosezione di Avilinovest per effettuare i rilievi di rito. La coppia è stata poi trasferita al pronto soccorso del Moscati per essere sottoposta ai controlli ordinari di rito. L'agroalimentare Irpino tiene e supera la crisi. Nel 2012 è cresciuto del 12%. I dati sul comparto sono stati diramati questa mattina nel corso del direttivo provinciale della FAICISL. Immancabile un passaggio anche sui forestali. Dopo gli accordi di venerdì sugli stipendi arretrati, Caldoro rispetti gli impegni e imprimono a svolta riformando il settore. Flavio Coppola L'agroalimentare Irpino tiene nonostante la crisi che sta devastando l'intero settore produttivo della provincia. Nel 2012 il comparto è cresciuto del 12% e sono stati siglati ulteriori contratti migliorativi per i dipendenti delle aziende. Non solo, il 2013 potrebbe confermare questo trend. I dati sono stati diramati stamattina da Raffaele Tangredi, segretario provinciale della FAICISL, a margine del direttivo del sindacato. Adesso, ha evidenziato Tangredi, c'è però bisogno di politiche capaci di tassare il lavoro dipendente e rilanciare i consumi. È l'unico settore, tra tutti i settori, tra quelli metallomeccanici, chimici, che riesce ancora a rinnovare i contratti, che fa buoni contratti di secondo livello, che tiene sui mercati nazionali un poco meno, ma su quelli internazionali cresce e cresce bene se pensiamo che solo nel 2012 è cresciuto del 12%, ma teniamo già avvisagli che il 2013, almeno sui mercati internazionali, questo numero sia ancora di più aumentato. Stiamo facendo imparare alla Cina a mangiare la pasta, significa che è uno dei settori che tira e può tirare ancora. Però ci vuole pure un governo che capisca che a certi livelli di costo della manotopera non si può più andare avanti. Negli ultimi anni, complessivamente, vi è stata una perdita del 15% del salario a favore dei lavoratori e in favore invece dell'aumento della tassazione del singolo lavoratore nei confronti dello Stato. Inevitabile un passaggio sulla dolorosa vertenza della forestazione, soprattutto dopo l'accordo strappato venerdì scorso alla Regione, che dovrebbe sbloccare entro Natale più o meno 27 milioni di euro per gli stipendi arretrati dei 1.100 addetti irpini. Queste due giornate di presidio hanno fatto sì, specialmente la prima, dove c'è stato il blocco di Napoli per due o tre ore, c'è stata una svolta complessiva. Io credo che a questo punto Caldoro abbia capito che le intenzioni del sindacato erano solo quelle di risolvere un problema che lui e la sua giunta aveva creato. Il passato si chiude con il riconoscimento del debito fuori bilancio delle mensilità arretrati, il futuro si crea facendo una buona legge 11.96. Sul 2013 la Regione ha fatto un'inversione di tendenza perché prima diceva che bisogna firmare l'accordo di programma quadro, adesso non ce n'è bisogno. Lei ha detto che abbiamo subito già troppe fregature, non teme che questa inversione di tendenza possa essere anche un po' l'avvisaglia che sia l'ennesimo bleff? Qui veramente tutti abbiamo pensato che sia un bleff, però fino a prova del contratto dobbiamo capire se ci saranno nelle prossime ore, nei prossimi giorni, sia con la delibere che con la ripartizione. Credo che il bleff era quello di prima. E ci trasferiamo in provincia. Trovato l'accordo per il mercato settimanale di Ariano Irpino, la location resta quella del centro storico di Piazza Mazzini, ma l'area si allarga anche sulla nazionale. Presto verranno individuate le nuove postazioni. Trovata la soluzione per il mercato settimanale di Ariano Irpino, le bancarelle resteranno nel centro storico anche se le postazioni saranno rimodulate con disposizione a ferro di cavallo in virtù di una nuova piantina che invia di definizione all'ufficio tecnico comunale. Soltanto qualche stand traslocherà su via nazionale. La soluzione è emersa dall'incontro di ieri a Palazzo di Città, preseduto dal commissario straordinario Ervira Nuzzolo, alla presenza dei rappresentanti dei trasporti, del direttore dell'AMU, dei tecnici comunali e dei rappresentanti di Cidec e Confcommercio. I commercianti hanno accolto con un sospiro di sollievo l'abbandono dell'ipotesi di traslocare sulla panoramica. La soluzione trovata richiede comunque di disporre l'interruzione al traffico dall'incrocio Sant'Antonio all'incrocio San Domenico e ricorrere a percorsi alternativi. Settimana prossima ci sarà una nuova conferenza di servizi e al più presto, spiega Manfredi D'Amato della Confcommercio, verranno individuate le nuove postazioni. Entro la fine dell'anno si concluderà tutta la procedura burocratica che dovrà poi essere ratificata dalla regione Campania. Intanto i mercati del 25 dicembre e del 1 gennaio saranno anticipati ai martedì precedenti, il 24 e il 31. Ed è arrivata sul palco del Teatro Gesualdo di Avellino Lina Sastri, una delle più amate interpreti della musica e del teatro napoletano. Grande successo per il suo spettacolo dal titolo Lina Polina. Sentiamo. Uno spettacolo in prosa, musica e danza, un incantesimo ad una sola voce per raccontare una città, ma anche una grande artista. Al Teatro Carlo Gesualdo è arrivata Lina Sastri con Lina Polina, Le Stanze del Cuore. È il secondo appuntamento del cartellone Redate e la fortunata rassegna dedicata alla commedia brillante organizzata dal Teatro Gesualdo di Avellino in collaborazione con il Teatro Pubblico Campano. Lo spettacolo, scritto e diretto da Lina Sastri e prodotto dal Teatro Diana di Napoli, vuole essere un omaggio emozionante ed emozionato alla città di Napoli, fatto da una delle sue figlie più apprezzate. Un simbolico ritorno a casa compiuto attraverso le più belle e conosciute canzoni del repertorio partenopeo, un atto d'amore per una città magica ed infinita. Il mio nome finisce con l'inizio del nome della mia città. Il nome della mia città finisce con l'inizio del mio nome. Lina Polina ha provato a dirlo con un unico suono e sembra proprio dire di cantare sempre Napoli, senza fine, Napoli all'infinito. Queste le parole di Lina Sastri, parlando del suo ultimo lavoro. Lina Polina è un concerto in musica e parole per raccontare Napoli attraverso la sua musica immortale. Da Iotevurria-Vasà a Era de Maggio a Tonna a Surriento fino a Usolemio, eseguita da otto musicisti, passando, come sempre, dalla parola alla musica alla danza in un flusso dell'anima che va e viene come il mare. Lina Polina è un lavoro estemporaneo, quasi di getto, carnale, in cui ogni parola, ogni verso, ogni nota, fluisce per visitare uno spazio ben preciso del palcoscenico. Una cantata poetica e musica che, in un susseguirsi di melodie, si fa a teatro. E chiudiamo con la programmazione del multisala Carmen di Mirabella e Clano dalla settimana dal 12 al 18 dicembre. Sala 1, un fantastico via vai con Leonardo Pieraccioni. La vita di Adele, vincitore della Palma d'Oro al Festival di Cannes 2013, vietato ai minori di 14 anni. poi l'Hobbit, la desolazione di Smaug, una proiezione normale, non in 3D. E infine Gloria con Paolina Garcia, Orso d'Argento, per miglior attrice a Berlino 2013. Con il telegiornale abbiamo finito, naturalmente adesso però solo un po' di pubblicità, poi ci ritroviamo con la pagina sportiva. Grazie Maria. Grazie a te Angelo, buongiorno. A dopo. Grazie a te Angelo, buongiorno.